Ciao ragazzi bentornati su top prodotti recensioni prima di iniziare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Oggi andremo a vedere le migliori schede di memoria SSD da 500 GB. In quinta posizione troviamo la scheda SSD Kingston, disponibile dai 120 fino ai 960 GB, se vi necessita la trovate anche con l'alloggiamento per installarla al computer. Vi garantirà rapidità nelle fasi di avvio del sistema, caricamento e trasferimento dei file, con velocità massima di 500 MB per secondo. Più affidabile e duraturo di un hard drive tradizionale e capacità multiple con tutto lo spazio necessario per le applicazioni o per la sostituzione degli hard drive, per maggiori informazioni trovate il link in descrizione. In quarta posizione troviamo la Samsung memoria SSD 870 EVO, disponibile dai 250 GB fino a 1 TB di spazio. Raggiunge il limite massimo di velocità sequenziale dell'interfaccia SATA di 560 MB per secondo. Tecnologia Intelligent TurboWrite che accelera la velocità di scrittura mantenendo elevate prestazioni nel lungo periodo, software Samsung Magician 6 che gestisce il tuo drive con una gamma di strumenti utili che ti consentono di stare al passo con gli ultimi aggiornamenti e di monitorare la salute e lo stato del drive. In terza posizione troviamo la scheda SSD SanDisk disponibile da 250 GB fino a 4 TB, fino a 560 MB per secondo di velocità di lettura sequenziale, per un avvio più rapido e prestazioni di sistema complessivamente migliori, maggiore resistenza e affidabilità dell'unità e minore consumo energetico grazie alla nuova tecnologia 3D NAND, avvio e arresto più veloci, caricamento delle app e tempi di risposta più rapidi grazie alla tecnologia Ncash 2.0? Trovate il link in descrizione. In seconda posizione troviamo la scheda SSD Crucial P2 con capacità dai 250 GB fino a 2 TB con lettura e scrittura sequenziali fino a 2400 MB per secondo. Interfaccia NVMe PCIe e software di gestione SSD incluso sarà possibile ottimizzare le prestazioni, mantenere i dati protetti e aggiornare il firmware. Interfaccia hardware SATA, la trovate ad un prezzo molto vantaggioso per migliorare e cambiare del tutto le prestazioni del vostro computer, controllare la compatibilità con il vostro computer prima di acquistarla. In prima posizione troviamo un'altra scheda SSD Samsung disponibile fino a 2 TB, velocità di lettura e scrittura sequenziale rispettivamente fino a 3500 e 3300 MB per secondo, progettato per gli appassionati di tecnologia, giocatori esperti e professionisti che hanno bisogno di performance elevate, veloci e chiare. Scheda SSD veramente ottima e potente con più di 10.000 recensioni e una media di 4.8 per maggiori informazioni trovate il link in descrizione. Bene ragazzi anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate tutti i link degli articoli in descrizione e se siete interessati, grazie per aver visto tutto il video ci vediamo al prossimo. Grazie a tutti.